Questa trasmissione è realizzata in collaborazione con Signor e signori, buonasera, benvenuti all'appuntamento con Sport Club, le show, una grande serata da vivere in nostra compagnia con tantissimo sport e ovviamente con le nostre meravigliose ragazze. Vedo che c'è un parterre d'erroi di primo piano, una più bella dell'altra, francamente stanno tutte in pole positions. Sarà che stare lì sul tavolo di GiocoPiù volete provare a vincere tutto quello che sta vincendo la nostra Celeste giocando su GiocoPiù, che per ora in realtà gioca solo a livello virtuale? No, aspetta, io mi sono iscritta in l'altra notte. Beh, ma allora scusa che ti vengo a tenere d'occhio, questa è una chicca nuova, fresca, dai raccontami tutto. Ieri l'altra notte, in preda a un attacco di fame, mentre mangiavo compulsivamente mi sono iscritta. Tutto quanto poi viene teletrasportato a te. Quello che non amassi in grassa, ricordo, non ti preoccupare. Abbiamo questo smosi, non sapevo. E niente, mi sono iscritta e... Stai giocando a cosa? Slot? No, il mio gioco preferito si chiama Casinostro Stad Poker. Stad Poker, perfetto, mi sembra un'ottima scelta. E mi diverto un sacco. Tanto giochi, quanto hai caricato? Ho caricato 10 euro. E ti sembra poco, è perfetto, fai delle partite, è proprio il bello che si può giocare con poco. Ho scoperto che si può mettere anche un limite settimanale, spendibile, così non spendi di più almeno. Sì, ma nel senso che eviti ogni tipo di compulsione, perché infatti le rumano questa peculiarità di far sì che i giocatori evitino qualsiasi tipo di compulsione. È una cosa molto bella e intelligente e tu nel dubbio hai subito sfruttato questa soluzione. Poi dopo 20 minuti ho detto no, cavolo, potevo mettere almeno un altro limite, no? Però va benissimo, te gioca piano e stai tranquilla che ti diverti. Poi nel tempo puoi avere qualche soddisfazione, poi dopo vengo a controllare e vedo cos'è. Se lo Stad Poker potrebbe essere tipo Slot o tipo Poker classico? Tipo Poker classico. E allora ti do due ripetizioni. Ragazzi, mi raccomando, andate a ripetizioni dalla Rigo che è una garanzia assoluta di gioco. Chi è una garanzia in panchina è il coach della Bianco Blu Stefano Salieri, benvenuto. Buonasera. Al suo fianco il nostro opinionista che è Max Cocchi. Buonasera a tutti. Senni, ma hai confidato di essere milanista, lui è storicamente interista, quindi vi metto in banco insieme. Cosa mi racconti intanto di calcio? Vedo che sei già lì concentrato. No, ma sto leggendo i petardini dell'Inter in risposta al botto del Milan. Eh, non c'è paragone. Diciamo di nome assolutamente no. Certo, anche perché, insomma, se poi vuoi vincere... Ah, beh, è vero che siamo in parcondizio e non posso parlare di politica. No, quell'altro, è sempre quella. Ah, è sempre quella mia. Perché mi viene sempre il feste di dire, sarà stata una mossa anche finalizzata. No, 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 assolutamente, guarda, qui... Ma non era una mela marcia? Non era una mela marcia, aveva detto. L'hanno ripulita e... Basta togliere un po' dal torsolo. Esatto, e poi torna perfetto e linda. E adesso Balotelli torna un gioiellino. Da Milanista sei contento? Allora, diciamo che sono contento che hanno fatto una linea verde, una linea giovane davanti, con Nyang, Balotelli e Saravi. Da Milanista sono contentissimo. Ma sono contento. Se finiscono un po' la pulizia, direi che hanno fatto un grande lavoro, in un anno di transizione. Perfetto, quindi sei contento che tu allora? No, un trasferimento che fa felice tutti, voglio dire. Voglio dire, allora, parliamo di fuga di cervelli, ne abbiamo fatto rientrare uno. Quindi, prima cosa. Seconda cosa sono le agenzie di entertainment milanese che saranno felicissime. Peccato che proprio adesso si abbia messo in galera Corona, se no, questo aveva svoltato. No, comunque... Per me, guarda, che non è un caso. Ti arrestano Caruana e torna Balotelli. Guarda che ci sono delle tempistiche strane. Che casi la vita, vero? Guarda che ha dell'incredibile. No, però... E probabilmente se da dire che Corona uscirà quando Balotelli avrà terminato la carriera, se continua così. Sì, ma vuoi dire, comunque vuoi dire, la svolta all'economia milanese, voglio dire, con l'arrivo di Balotelli? Questo è meraviglioso. Quindi, voglio dire, poi... No, no, veramente emblematico. Ma tu non troveresti molto bene allenare un Balotelli, vero? Non lo so, non penso. Non è il tuo genere di giocatore, vero? Non dovrebbe essere propriamente un carattere affidabilissimo. Però poi i buoni sono buoni. Parlare con le figure, penso, vuol dire, fai disegnini e riesci a comunicare dopo con lui. No, devo dire che hai rilasciato un'intervista sul Carrino molto interessante in cui dice insomma, chi prende Salieri deve poi sapere che le squadre, perché mi ricordo bene che a Pavia non ti avevano costruito la squadra che andava bene a te. Quest'anno hanno fatto più o meno la squadra che andava bene, fermo restando che su Drenovas magari non sono così convinto che sei una tua primissima scelta e non ti hanno rimpiazzato gli infortunati, però con il tuo stile, con la tua squadra stai facendo una grande stagione. Ma sono contento perché soprattutto la cosa fondamentale quando si inizia una stagione è costituire un gruppo e lì abbiamo costituito un gruppo forte a livello di stare assieme, un gruppo che ha una forza morale, ha un'etica di lavoro importante, un gruppo che si è anche plasmato nella sofferenza perché noi abbiamo avuto subito, fin dall'inizio, dal precampionato una serie di infortuni importanti. I ragazzi hanno sempre tenuto duro, hanno avuto un grande esempio, una grande guida che è Andrea Pecile, che è un giocatore e una persona prima di altissimo livello che ha saputo indirizzare tutti verso un'unica meta e un unico obiettivo. e poi tutti i ragazzi che magari conoscevo per caratteristiche tecniche ma anche per caratteristiche caratteriali e abbiamo fatto un gruppo importante che sta facendo bene. Poteva fare benissimo, magari anche, non lo nascondo, con un aiutino in più che ce l'aspettavamo, però è lo stesso, andiamo avanti così, siamo a quattro punti dal primo posto, stiamo facendo un campionato oltre ogni aspettativa perché l'obiettivo era quello di salvarsi con un budget ridotto, questo era l'obiettivo di partenza, e ai 22 punti che l'anno scorso sono serviti per la salvezza ne mancano quattro e siamo al secondo di ritorno. Perciò con una squadra che in campo, a parte la partita di Forlì, è sempre stata in campo bene con tutte le squadre. poi forse in caso con Scafati siamo crollati alla fine, ma c'è una differenza anche fisica e proprio di prestanza, di stazza, con una squadra come Scafati che è costruita per vincere il campionato. Con Barcellona, finché Andrea Pecile è rimasto in campo, eravamo a quattro punti, ci giocano la partita punto a punto. Perciò la squadra ha fatto sempre bene, sono cresciuti tutti i ragazzi perché abbiamo lavorato con grande accanimento. Soprattutto la cosa che dà piacere e il motivo di maggior soddisfazione è stare in campo, in allenamento, in palestra con questo gruppo di ragazzi perché vedi giorno per giorno la voglia, la cattiveria agonistica che hanno per migliorarsi e per crescere. E questo è il motivo di maggior soddisfazione che un allenatore può avere. Certo, allora noi tra poco ovviamente avremo anche i vostri messaggi, il numero sarà il solito, 335-56-68-736, le ragazze sono già microfonate, quindi tutte già pronte. Allora facciamo un giro di presentazioni perché qui abbiamo l'allenatore che sta facendo meglio in tutta la Lega 2, quindi sarà il caso che vi presentiate. Ma quei tatuaggi? Sapevamo già che avresti detto qualcosa. Beh, sono nuovi no? No, è un mesetto. Sì, beh io non sono abituato a vederti in desabie purtroppo, sarei ben felice di dire ma l'altra volta non li avevi. Non sono trasferelli qui, quindi non sono trasferelli qui. No, non credo. Quindi sono da un mesetto hai fatto quelle farfalline? Sì, due. Come Belen, la farfallina che si è fatta a Sanremo. In un altro posto però sempre la farfallina. Beh sì, in questa fascia oraria non puoi ovviamente far vedere altre disposizioni dei suddetti insetti, però mi sembra un'ottima scelta. Stanno molto bene, che risposta hai avuto? Cioè dai, se sono piaciuto, no? Eh certo. Oh sì, sì. Poi l'importante è che piacciono a me. No, quello è basilare. Però voglio dire, già ci sono uomini che hanno detto, beh però mi piace questa, eh? Sì, sì. Sei tu che spesso dici... C'è chi piace e c'è chi non piace. Sei tu che dice agli uomini, vieni a vedere la mia collezione di farfalle? Sai che era un vecchio sistema di noi uomini, no? Adesso invece sei tu che dici vieni da me che ti faccio vedere le mie farfalle, poi dai di gomito e... No, sì, sono piaciute, sì, sì. Non le faccio vedere in questo modo, però sono piaciute. Sono piaciute, perfetto. Quindi sei sempre finanzata, hai sempre quel rapporto controverso? Come sei a me, sì? Sempre rapporto controverso. Sempre rapporto controverso. Mi informo sempre che voglio sapere come sono organizzate. Con lei non puoi parlare perché sono tipnosi, lei è stata... Non puoi parlare di amore, di niente, perché qualsiasi cosa accada, lei è in catalessi, sta sul gioco più, non vuole pensieri. Lei ha trovato lo stat poker, dico bene? Ho perso. Hai perso? Vedi la reazione, dici come va con l'amore? Ho perso e piange. Fa vedere. Vabbè, tu hai cinque carte più bella di così, scusami, eh? Eh... Vabbè, hai una coppia di tre però, modello tristezza, eh? Allora, questo è il classico poker caraibico, sai come si gioca al... Ah, cioè, tu hai versato e stai giocando senza saperlo. Magari pure vinto. Perdonatemi, devo dare due ripetizioni. Vabbè, se vince sei a caso... Allora, il Caribbean Stat Poker viene così definito, tu hai queste cinque carte, il banco scopre solamente questa carta e si compone un punto con cinque carte. Cosa succede? Se il banco ha almeno a suo K, il banco ha cosiddetto legato. Se non hai il punto, tu comunque hai fatto pari e hai preso la puntata iniziale, la puntata doppia è quella che giochi dietro. Ci siamo? Se il banco fa un punto superiore al tuo, ti porta via tutto. E hai vinto. Se fa un punto inferiore al tuo, tu prendi la puntata davanti e la puntata dietro, ok? A patto però che il banco abbia fatto almeno a suo K, che è il punto minore. Poi si va a coppia di due a salire. Ci siamo? Però io faccio un'insegnante perché io... Guarda che io sono brava, la settimana scorsa ho vinto 500 euro. Non è vero. Sì? No, li avresti già spesi. No. Lo sai benissimo. Virtuali, non quelli veri. Virtuali, ho capito, però è come dire... Ma cosa c'è? Sì, un altro giorno ero online, ho cliccato un sito e ho visto un filmato un po' spinto. Non è che sono andato con una donna, ho visto un video, capisci? Ma devi avere pazienza, ci arriverò, vincerò anche soldi veri. Mi sembra un'ottima scelta. Ricordi però il vantaggio... Se mi dai il numero della tua carta... L'hai capito che se fai doppia coppia ti paga due volte, Tris ti paga tre, Scala ti paga cinque, Full ti paga sette, Poker ti paga venti, Scala colore ti paga cinquanta, Scala reale ti paga cento volte. Non ti do la percentuale. Dice si Scala reale, forza. Scala reale. Forza, avanti. Re, donna, jack... Sì, sentiamo qui, qui abbiamo cincinati kid e minina esota festa abbiamo trovato, forza. E asso. E il 10 lo buttiamo via che non serve perché c'è crisi. Sì, c'è il 10. 10 jack, donna, re, asso, dello stesso? Sì. Brava. Brava. Ci siamo, vedo che ci siamo. Il livello è interessante. Dai, dai. Allora io a quel giochino lì ti posso raccontare due aneddoti. Fine anno 2001, inizio 2002. Fine anno 2002, inizio 2003. A Nova Goriza vinsi 4 milioni di lire. Poker di 4 alle 6 di mattina. Io poker, sì, impazzito, entusiasta, alle 6 di mattina feci questo golpaccio. Bello, eh? Due fini anni di filo, ho vinto 4 milioni. Chiedimi poi come sono andati gli altri fini anni, poi te lo spiego. E ti fai tanti problemi a prestarmi la carta per giocare online. Che io carico soltanto 10 euro. Tu vai tranquillo, usa la tua. Andrà benissimo, la mia ormai è zigrinata. No, voglio dire. Però ti dico, è molto molto divertente. È un gioco dove non conta assolutamente l'abilità. È una componente di fortuna. Chiaramente quel meno l'abilità è di giocare con un po' di criterio. Il banco ha una percentuale di favore, però, voglio dire, può essere molto divertente. Poi giocata a cifre basse, non ci sono problemi. Allora, abbiamo saputo di lei. Lai in fondo ti relegano sempre a te. Eh, mi mettono sempre in fondo. Perché? Perché? Hai un primo piano che, guarda, guarda, ha capito che qui cresce l'audience. Allora, tu come sei combinata? Sempre in finanziamento. Prosegui, imperterrita? Sì, sì, sì. Tu non hai una storia sofferta come la sua, vero? No, no, no. Tu vai bene. Rose e fiori. Tu ti tratta bene. Sì, 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 benissimo. Certo. Tu non hai... Tu... Ma non mi tratta male. Non ti tratta male. Allora perché hai una storia sofferta? Perché ti vuoi fare del male da sola. Non la tratta e basta. Non è complicata. È meglio la sua storia, è più emozionante. Ma infatti, più emozionante. No, te lo chiedo perché, voglio dire, quindi tu non hai ancora creato problemi, non gli hai ancora detto... No, no, nessuno. Mi guardo dentro, cerco me stessa, ancora niente. No, 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 niente. Bene, questo è importante. Poi andiamo da lei, sentiamo, allora, tu invece come vai in amore? Che punto siamo? Una pausa. Una pausa, perfetto. L'ha presa lui o tu? Entrambi. Entrambi. Da una decisione... E come inganni l'attesa di questa pausa? Perché è quello che fa la differenza, sai? Sto da sola, con gli amici, mi diverto. Beh, perfetto, mi sembra una ottima scelta. Vengo qui, assieme. Beh, qui ti cambia la vita, è una panacea di tutti i mali. Poi, lei, protagonista delle feste, delle nostre riviste, in ogni festa c'è un tuo primo piano con Mossini del Corriere... Ma infatti. È vero? Ti piace, eh, Mossini, eh? Mi chiede sempre di te, eh? E' amore. E' amore, e' amore. A te piace lui? Ma cosa vuoi? Ma io lo faccio per codice deontologico, se io posso far trovare da far bene a un collega, per me è doveroso. È privacy. È privacy, quindi posso sperare, vengo a tenere il discorso, eh, se volete, se risposate. sai mai un collega rimani tu rimani tu come siamo messi invece tu tutto bene tutto meraviglioso felice una storia d'amore fantastica adesso chiunque ha una dichiarazione praticamente da ufficio stampa questa è la verità mi sembra la soluzione migliore cosa state controllando no stavo stavo a guardare i pettardini dell'Inter dai spara due minibombe no due minibombe sono già arrivati voglio dire il primo è Schelotto che è arrivato ah vuoi un commento tecnico o quello da tifoso scegli sei tu il conduttore va bene hai ragione anche te vai col commento tecnico il commento tecnico sono l'Inter aveva freddo e anziché prendere una giacca a venta ha preso un capottino cioè questo diciamo in metafora quello che è successo voglio dire Kuzmanovic copre un ruolo che sicuramente nell'Inter c'era bisogno perché sulla fase un giocatore di spinta l'Inter aveva bisogno chiaro che la qualità del giocatore è quella che è un parametro pressoché vero perché era una scadenza di contratto e diciamo che fa numero meglio di niente Schelotto un altro giocatore di fascia non mi pare che l'Atalanta abbia fatto la differenza poi in questo primo scorso di campionato e Kovacic è un giocatore di prospettiva un 94 del partita di Belgrado è un giocatore di prospettiva probabilmente verrà anche impiegato molto poco in questa stagione quindi diciamo che hanno fatto numero credo che se non fosse arrivato Balotelli al Milan credo che neppure li avrebbero presi questi giocatori forse Kuzmanovic ma Schelotto e Kovacic non li avrebbero presi ma avrebbero ottenuto i soldi per arrivare poi al tanto famoso e decantato Paolino poi a giugno e invece quello della tifosa il commento e sti cazzi assolutamente mi dici che arrivano Schelotto Kovacic e Kuzmanovic come un tifoso dell'Italia dice questo voglio dire sì sì beh mi rendo conto non è che abbiamo preso dei fenomeni clamorosi sì non hanno preso Garincia non hanno preso voglio dire non è arrivato Garincia non è arrivato il giovane Pelè ma sono arrivati un 94 del partita di Belgrado hai più sconosciuto un giocatore che lo Stoccara sta facendo andare a scadenza di contratto quindi voglio dire non è che credo fosse così tanto appetibile comunque come proseguizione di contratto e Schelotto che secondo me è stato anche strapagato perché 3 milioni e mezzo più la metà di Livaglia è una valutazione che va tra i 6 e 7 milioni sono tanti sono tanti ma tu hai sempre divato Milano? sì come mai questo amore non so sempre stato sì sì sempre rosso nero Bologna così distrattamente sì beh è chiaro Bologna ha il piacere che vada bene perché qui ecco non c'è poi però sempre Milano va beh tutto a posto allora adesso parliamo un po' di Bianco Blu perché insomma vogliamo dire che intanto oggi la comunicazione ufficiale c'è dal fondo il nostro editore opinionista che stasera si è messo in poltrona che dice è milanista beh figurati anch'io lui ce l'ha nel cuore come è legittimo per me storicamente c'è solo il Bologna e ovviamente ne parleremo perché al momento il mercato del Bologna lo si può serenamente definire imbarazzante ma di questo ne parleremo tra un istante comico non imbarazzante comico ti piace ancora di più questo termine secondo me è quello più adatto ah guarda ci voglio tornare tra un secondo poi ti spiegherò quella ragione comunque è comico ah certo capisco bene adesso saltiamo veramente tra calcio e basket e poi ci lasceremo logicamente guidare dai vostri messaggi da casa allora parlando invece di bianco blu il mercato allora tutto si dice è finalizzata la prossima stagione oggi il vicepresidente la guardia della FIP ha detto il prossimo anno si sarà la fortitudo tutto a posto la cosa mi ha anche sorpreso perché a lato pratico poi questa è una mia considerazione non ti chiedo neanche una chiosa perché in questo momento tu stai lavorando per Giulio Romagnoli certo mi viene un po' da sorridere e dici uno prende Eagles non paga le tasse chiude Eagles i giovani di Eagles vanno avanti con l'autofinanziamento per la federazione come nulla fosse accaduto e tranquillamente dice bene va bene se avete inchiodato un centino sparisce una società il settore giovanile muore però al prossimo anno la fortitudo c'è sempre è un effetto un po' particolare e questa è una mia considerazione e ti lascio astenere e che voglio dire da esterno posso dire che a Sabatini potrebbero girare anche i cosiddetti perché cioè a lui è stato fatto ben di peggio col marchio a suo tempo è vero quindi però voglio dire saranno cambiate le cose sai cosa dico poi ci spalleggiamo questo concetto guardandola da esterno in super partes dico che effettivamente sono stati usati due pesi due misure è vero sai qual è il problema sono passati dieci anni e qui da uomo di basket ti dico quella rigidità che si poteva avere dieci anni fa in cui se saltava una squadra faceva quasi notizia oggi io ho paura che se veramente mettiamo dei lazzuoli finisce lo sport io penso che è cambiata anche la situazione economica generale e questo incide su tante cose c'è il caso Napoli che ha fatto abbastanza scalpore in Lega 2 per come è stato affrontato secondo me in maniera così molto superficiale e poi ripeto sono altre società che sono saltate abbiamo dei campionati zoppi perché anche la DNA ci sono due turni di riposo per squadre che sono saltate perciò c'è sicuramente un problema di sofferenza generale che chiaramente ha determinato anche un po' più di elasticità diciamo nel cercare di mantenere o di dare qualcosa a queste squadre mi collego a pienamente ragione anche perché ricordo che passiamo dal basket alla pallavolo femminile ma c'è una squadra che si chiama Modena che a metà stagione ha chiuso il campionato squadra tra l'altro di centro all'alta classifica che a metà campionato ha detto guardate qui noi non riusciamo più ad andare avanti noi ci dobbiamo ritirare dal campionato per effetto poi di questo ritiro c'è una squadra bolognese che l'idea volley che si salva e ha vinto una partita sola che fa fatica a vincere una partita che si salverà facendo 5-6 punti in tutto il campionato però rimarrà rimarrà a galla perché ci sono state squadre che si sono gestite peggio di lei che a quel punto conveniva mettere solo delle bambine in campo ti salvavi uguale esatto ma di questo ne dobbiamo parlare ne parliamo dopo la pubblicità ci sarà una gradita sorpresa per chi ama ovviamente la buona tavola perché è un po' una piacevole tradizione che abbiamo lanciato in questo 2013 e poi ci sarà tanto da parlare perché adesso parlando di cibo siamo andati un po' all'antipasto poi entreremo nel vivo di questa avventura bianco-blu di tutto quello che è capitato in questi anni perché Stefano Salieri ne è stato in dubbio protagonista mi sento dire in positivo perché la realtà è che dovunque sia andato non solo in bianco-blu ma anche in altre realtà comunque parliamo di bianco-blu lui ha fatto bene poi vorrei ricordare che è un professionista e va dove ci sono le condizioni per lavorare ma ne parleremo tra poco ancora Sport Club che punto eravamo stavi ragionando un po' sul discorso bianco-blu detto che ne avremmo riparlato ovviamente sconno sul discorso più che altro del fatto che il momento per lo sport è difficile facendo l'esempio del palavolo femminile dove una squadra si è ritirata a metà campionato e quindi probabilmente i parametri che fino a dieci anni fa erano le maglie che erano molto più strette dieci anni fa oggi sono molto allargate poi il dramma è che adesso tutti possono svendere uccidi un campionato uno dice ma perché mi devo abbonare che non so che cosa succede allora metti non so a Forliti dicono Toddi ci lo mandiamo a Pesaro e poi c'è un'altra squadra che dice beh io a sto punto me ne frego tanto in A1 non mi interessa andarsi cioè paradossalmente la bianco-blu se volesse dire io do via Curno in A1 do via Pecile perché a posto lo do come cambio di poeta sto improvvisando a Casaccio e faccio giocare dei bambini tanto non retrocedere tanto non vado in uno e risparmio sugli stipendi nel prossimo anno il problema Stefano è che il prossimo anno cioè che teoricamente si potrebbe fare così al di là che Romagnoli non lo faccia il problema è lasciare ai dirigenti la possibilità di fare questo ma c'è l'errore di fondo è il peccato originale della situazione Napoli che si è creata perché quando in un campionato perdi il deterrente della retrocessione perdi quel pizzico di così di suspense che un campionato ti dà perché alla fine è questo e non fai nient'altro per cercare di dare qualcosa in più non so i famosi playoff da 8 a 12 o vedere anche queste cose qui insomma per provare a coinvolgere di più tutte le squadre è chiaro che dopo viene lasciato così all'iniziativa dei singoli dirigenti che tra l'altro devo anche dire che ci sono società che si sono mosse con lungimiranza e anche con un grande senso di tempestività vedi Imola che il giorno che perde Marini ha inserito un giocatore importante come Frassinetti che vale Marini e anche qualcosa di più perché è un giocatore italiano di sistema che sicuramente ha compagato ulteriormente lo volevi? Sì, è un giocatore che io sempre seguo Non mi meraviglio Parti con un ragazzo Parti con un ragazzo